Renzi è andato a fare mandrake anche in Europa, promettendo tutta una serie di mirabolanti riforme. Peccato che poi in Italia stia litigando con il suo commissario per la spending review per trovare le coperture finanziarie a queste riforme che sta appunto portando a parole in Europa. Noi continuiamo ad aspettare qualche fatto concreto e qualche numero preciso.